Allora Matteo, grazie di questa maglia, ringrazio il Presidente Antonio Gozzi per avermi permesso di poterla mettere fra questi campioni, ma è adatto, è il luogo ideale per custodirla, perché per me ha un'importanza fondamentale ai fini della mia carriera, della mia passione per il calcio, perché Lentella è stata la prima squadra che mi è venuta a prendere tra i dilettanti e mi ha fatto giocare tra i professionisti, questo non potrò mai dimenticarlo, perché con tutto quello che era il mio amore per il calcio, poter giocare tra i professionisti è stato in quel momento lì come toccare il paradiso, per cui grazie, questa maglia la custodirò in maniera perfetta, la metterò fra questi grandissimi campioni, perché Lentella merita lo stesso trattamento per me. Tanti auguri Lentella, buon compleanno per questi 110 anni magnifici e l'augurio è quello che possiate passarne altrettanti in mezzo alle vittorie, carichi di vittorie importantissime per la città di Chiavari che è una città magnifica. Grazie. Grazie.